La cosiddetta col veloce non ha funzionato come si pensava. I docenti che l'hanno utilizzata sono stati davvero pochi. Questa tabella, realizzata sulla base di dati che ci ha fornito CISL Scuola, evidenzia in modo evidente il fallimento della procedura che, nelle intenzioni del Ministero e del Governo, sarebbe dovuta servire per mitigare un po' l'effetto cattedre vuote, soprattutto nelle regioni del Nord. Il meccanismo è piuttosto semplice e prevede la possibilità per i docenti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo di presentare istanza in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. Però, come si vede dai numeri, i docenti neo-immessi in ruolo non hanno ritenuto particolarmente vantaggioso usufruire di questa possibilità. Il fatto è che entrare in ruolo in una regione diversa dalla propria è complicato e costoso e poi c'è da considerare che con le nuove regole si deve rimanere nella stessa sede per cinque anni, senza la possibilità di essere trasferiti. L'opposizione parla di fallimento. Maria Stella Gelmini, Ministra dell'Istruzione dal 2008 al 2011, ricorda che si aspettavano circa 6.000 candidature. Valentina Aprea, capogruppo di Forza Italia alla Camera, rincara la dose. I dati parlano di cattedre rimaste vuote fino al 50% e intanto il tempo per determinare gli organici in vista della ripresa delle elezioni è sempre più limitato. Da parte nostra, sottolinea il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega, avevamo proposto un piano di stabilizzazione da graduatorie per disporre di tutti gli insegnanti titolari al riavvio delle elezioni. Questi numeri, prosegue Pittoni, sono la certificazione del fallimento di una procedura che ha sottratto tempo prezioso per organizzare le convocazioni dei supplenti. Il fatto è che lavorare in una regione diversa da quella in cui si abita non è certo una delle maggiori aspirazioni dei docenti e ben dovrebbe saperlo il Movimento 5 Stelle, partito movimento di maggioranza relativa, che aveva costruito il proprio successo elettorale esattamente sulla battaglia contro l'esodo dei docenti da sud verso il nord. I docenti deportati vennero anzi definiti nel 2016 con una espressione linguistica quanto meno discutibile. Il flop della col veloce si somma ai problemi legati alle graduatorie provinciali che, dicono i sindacati, sono piene zeppe di errori e rischiano di rallentare non poco le operazioni di nomina. Ed è così che a conti fatti quest'anno potrebbero rimanere scoperte più di 200.000 cattedre, forse persino 250.000, tenendo conto che con l'organico aggiuntivo per fronteggiare l'emergenza Covid saranno assegnati alle scuole altri 50-60.000 posti. In passato, soprattutto nelle regioni del nord, le scuole si sono salvate grazie ai docenti delle MAD, grazie cioè a insegnanti di altre province o che comunque non erano inseriti nelle graduatorie d'istituto. Quest'anno però il Ministero ha deciso che possono utilizzare la MAD solo gli insegnanti che non sono inseriti in nessuna graduatoria provinciale. In altre parole, se si è iscritti nella graduatoria provinciale di Roma, non ci si potrà mettere a disposizione in nessuna scuola, neppure in un'altra provincia o in un'altra regione. La disposizione è contenuta nella circolare di ramata alle scuole proprio in queste ore e certamente complicherà non poco la vita delle scuole stesse. Sul tema noi continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci sia su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, mandateci le vostre esperienze, ne daremo conto come sempre.